Se ti sei sempre chiesto se è possibile guadagnare con telegram la risposta è sì e in questi video ti farò vedere alcuni metodi che conosco io personalmente che ho anche utilizzato e vi faccio vedere poi effettivamente che cos'è che bisogna fare Sono dei metodi molto diversi tra loro quindi c'è quello lì molto più difficile e impegnativo che può essere considerato come un lavoro e c'è quello lì diciamo come passatempo quindi quei 10-15 minuti al giorno nei momenti morti dove si può guadagnare qualcosina extra Ecco si parla ovviamente di soldi nel primo caso dei veri e propri soldi e nel secondo caso quindi di spicci di pochi euro al giorno o al mese dipende da quello che vogliamo fare e di quanto ci vogliamo impegnare Ma prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale io mi chiamo Ezbo tratto di finanza personale e spesso porto questi video a tema guadagno online quindi davvero se ti va iscriviti al mio canale Partiamo quindi dal metodo numero 1 che non è nient'altro che creare un canale telegram con moltissimi iscritti Questo perché un canale telegram che ha moltissimi iscritti in particolare sia attivo ha veramente delle potenzialità di guadagno incredibili perché un canale con tutti questi iscritti può generare soldi Facendo pubblicità ad altri canali telegram facendo pubblicità a siti web facendo pubblicità insomma praticamente a qualsiasi cosa avendo del pubblico quindi si parla di canali con un certo numero di iscritti Questo significa che voi se avete intenzioni l'indomani di guadagnare con telegram non vi basterà altro che crearvi un canale Che tratti comunque di un argomento che possa piacere a voi e che allo stesso tempo possa piacere comunque alla gente Quindi da lì in poi costruirsi il canale e portarlo sempre più in alto quindi alla crescita facendo delle campagne pubblicitari Quindi magari all'inizio bisognerà anche spenderci dei soldi però vi assicuro che poi una volta creato dei canali con un certo numero di persone all'interno che sono comunque attive E che di conseguenza sono anche disposti a cliccare su nostri link su sponsor e quant'altro vi assicuro che poi i guadagni saranno veramente molto molto elevati Metodo numero 2 che ho utilizzato io personalmente e che secondo me è forse anche quello che ha più potenzialità è quello di sponsorizzare i link affiliati ad esempio di Amazon oppure Ebay Questo ci permette di creare delle entrate in modo veramente molto semplice quindi tramite il nostro canale telegram ovviamente il numero di iscritti più è maggiore più clic facciamo più vendite generiamo Quindi funziona così noi abbiamo il nostro canale telegram che è questo abbiamo il nostro canale telegram con moltissimi iscritti ok facciamo anche un migliaio di iscritti Qui abbiamo la nostra affiliazione con Amazon quindi ogni link che condividiamo all'interno di telegram viene collegato a noi ed ogni persona che acquista tramite il nostro link ci viene data una piccola percentuale Quindi facendo così ogni giorno mettendo delle offerte mettendo comunque i nostri link all'interno del canale di telegram automaticamente guadagneremo dei soldi Vi faccio vedere qui anche io c'avevo il mio canale questo qua era il mio e praticamente anche io con questo canale ho iniziato a generare dei soldi in modo non indifferente nel senso i guadagni andavano ad aumentare in modo proporzionale a quante persone c'erano all'interno del canale Quindi tutte e anche a far crescerlo questo canale io in particolare facevo delle campagne pubblicitarie su facebook quindi ogni giorno mi entravano anche 20 persone all'interno del canale e facendo così iniziavo sempre a crescere L'ultimo metodo che voglio mostrarvi è quello lì praticamente di utilizzare dei bot telegram che in questo caso ve ne faccio vedere uno ma ce ne sono diversi che vi danno comunque la possibilità di guadagnare soldi tramite telegram E spesso diciamo il pagamento avviene anche su paypal in modo abbastanza rapido In questo caso io oggi voglio farvi vedere socialgift che non è nient'altro un'applicazione per mettere dei like o commenti su altri post di instagram Quindi pagano il bot per farsi pubblicità al proprio profilo instagram Noi che aiutiamo il bot quindi gli andiamo a mettere mi piace alla persona che l'ha richiesto automaticamente si crea un giro Guadagna sia il bot e guadagniamo noi per aver messo il like foto ecco quindi funziona in poche parole così Certo non ci sono dei guadagni super mega elevati diciamo più che altro un passatempo che potrà magari ripagarci una ricarica sullo smartphone e così via Quindi anche questo potrebbe essere un metodo valido però io vi cito solo questo ma comunque se volete un video dedicato a tutti questi bot e questi metodi diciamo di guadagno brevi Magari lasciatemelo qui nei commenti e ci faccio un video dedicato pieno di questi bot telegram per guadagnare online Bonus di questo video secondo me anche se si è bravi a programmare e si riesce a creare qualche bot interessante che possa essere utile alla gente per qualsiasi modo L'importante è che tu possa essere bravo a programmare quindi se tra qualcuno di voi magari non sa come muoversi però è bravo a programmare Secondo me se si mette a cercare si crea un'idea interessante che possa essere utile alla gente creare un bot telegram efficace potrebbe essere veramente un metodo di guadagno incredibile Ovviamente questo è solo per chi ne è realmente capace quindi telegram potrebbe essere veramente la piattaforma giusta per creare qualcosa che la gente cerca Quindi il bot che hai creato sarà un servizio e automaticamente le persone ti pagheranno per avere il servizio che crea il tuo bot E ce ne sono davvero un'infinità di opzioni quindi di idee sta poi a voi se siete bravi a capire quale sia meglio per voi Ragazzi il video finisce qui se volete potete lasciare dei commenti qui sotto al video possiamo parlare insieme oppure magari se volete potete entrare all'interno del mio gruppo telegram dove ci sono io ed altri membri dove spesso scambiamo delle opinioni Io vi ricordo ancora una volta di lasciare un mi piace iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto nel prossimo video ciao